Ma signor... Se ne vanno! Se mi mi dice una cosa, significa che è vero. Si va detto che non vi può aiutare, non vi può aiutare. Ma vi pare che voleva perdervi l'affare, no? Ma forse perché si è arrabbiato e ci ha preso in antipatia. Se ne vanno! Ve l'ho detto, andatevene. Se ce lo fate vedere, dopo c'è un regaluccio pure per voi. Ma che dite, parola d'onore! Non ho visto mai due persone più trasegizze. E voi andate da prima, io da qua non mi muovo. Uè, garameni. No, finalmente, vieni, vieni. Chi siete, che volete, dove andate? Di là. E andiamo. Come andiamo? Non potete entrare, lo volete capire? Pasqua, a me dè. Ma dove stanno? Avvocato, aiutateci. Abbiamo un'altra galera. Ma quella galera, ci buttava molto perché faccio contrabbandere le sigarette. Ma sapete quanto tempo ci mette per guadagnare 28.000 lire? Non ne parliamo giorno e settimana sempre lo stesso posto, sotto il sole e sotto l'acqua. Ho saputo da quanto tempo è disoccupato mio marito? Da quando ha finito il servizio militare. E come campammo? Come mangio, figlio mio! E poi era una cornuta e si arresta! Ma no, aspetta! Non la possono arrestare! Come, Fogato? E te ne che la pancia! Non la possono arrestare, te ne la pancia! Hai capito? E sta! Non la possono arrestare, hai capito? Te ne la pancia! Era un reato di carcere. Ma non la possono arrestare! Perché? Perché te ne la pancia! Hai capito che piacere? Non la possono arrestare! E perché? Perché te ne la pancia! 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 Sì, è una panza. Vieni avanti, vieni avanti, vieni avanti. Venamò! 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 Grazie, grazie. Adelina, tengo una specialità americana, parto il dolore. Buro buia. Brava, brava. Brava, brava. Brava, brava.